Ciao a tutti, volevo ringraziarvi perché siamo arrivati a 80.000 contatti su Facebook Sono felicissimo e non me lo sarei mai aspettato Ora sono qui a fare delle foto in una location bellissima Abbiamo registrato anche dei brani nuovi e non vedo l'ora di farveli sentire Ora proseguiamo con io canto e ci sentiamo al più presto Vi mando un bacione e ancora grazie, ciao! E adesso alza il volume più alto possibile Apri gli occhi e vedrai Non aver dubbi mai Non avrò dubbi mai Non avrai dubbi mai Già così E io Grazie a tutti